Buonasera a tutti, benvenuti al Circolo Ufficiali, io sono il Presidente, sono il Capitano Invesello e anche quest'anno, come l'anno scorso e il passato, abbiamo ospitato questa rassegna che si sicura interessa ed è anche di prestigio. Per tanto è con piacere che vi accogliamo qui stasera e vi invitiamo ad ascoltare anche questa interessante presentazione. Grazie. Buonasera, benvenuti a questa dodicesima edizione di Strane Coppie, ogni anno riusciamo avventurosamente e faticosamente a farla ripartire, sono molto lieta di avervi qui con noi, ringraziamo il Comandante Carola e il Circolo Ufficiali per l'ospitalità, come sempre affettosissima e gentile, e benvenuti a tutti quanti. Dunque, una rapidissima presentazione della manifestazione, ma soprattutto una presentazione dei nostri ospiti. Strane Coppie quest'anno, per chi ci segue da sempre, per chi ci conosce, avrete visto, ha un nuovo tema, un tema che ha a che fare forse anche molto con il nostro presente, con le ombre che attraversano le nostre vite e che spesso le tagliano in maniera orizzontale, spaventosa, le ombre del clima, le ombre dell'economia, le ombre delle epidemie, della salute. Ma la nostra intenzione, in qualche modo, con questa rassegna è di mostrare invece le ombre che la letteratura da sempre frequenta. Shadows, quindi il nostro tema di quest'anno, racconta in qualche modo le ombre profonde, le ombre verticali che la letteratura ha sempre narrato, le ombre delle vite degli autori, di cui stasera e nei prossimi incontri racconteremo, ma anche le ombre dei loro antenati, le influenze, i maestri, gli autori che li hanno in qualche modo consacrati o cambiati, quelli che a nostra volta sono diventati, come dire, riferimenti, i congiungimenti, le strane coppie da sempre a questa vocazione di mostrare e di fare incontrare grandi classici della letteratura di ogni tempo e di ogni luogo, di modo che in qualche modo un tema, una risonanza, un collegamento, costruisca per noi un nuovo tipo di mappa, un portolano, una guida all'interno della crescita complessiva di quello che facciamo, di quello che compiamo nel corso della nostra vita e quindi di quello che leggiamo. Dunque, stasera cominciamo col raccontarvi la manifestazione, anche ringraziando naturalmente, come sempre vedete, scorrere dietro di noi chi ci consente di realizzarla, quindi una banca, gruppo BPM, che ci consente tra l'altro di portare, come sempre, ormai da qualche anno, strane coppie da Napoli a Roma a Milano, ma anche un nuovo amico della manifestazione, Fondazione Cultura e Arti, che tra l'altro quest'anno ci consente di avere una grande novità che dopo ripresenteremo e, come vedete, si sta già animando alla nostra sinistra, cioè la possibilità di tradurre in lingua dei segni italiana, in LIS, appunto, l'intera manifestazione, tutti e tre gli incontri napoletani e poi anche l'incontro romano. E quindi veniamo ai nostri ospiti. Comincio col presentarvi e vi chiedo un applauso per Giuseppe Montesano. Non dovrei presentare Giuseppe Montesano al pubblico napoletano che lo conosce molto bene, ma insomma nel corpo di Napoli, a capofitto di questa vita menzognera, Magic People, sono soltanto alcuni dei titoli che abbiamo tutti quanti amato, che hanno avuto, come dire, straordinaria fortuna. I grandi premi dallo strega al campiello rappresentano solo in minima parte l'importanza, la fortuna che noi abbiamo di avere uno dei maggiori autori europei accanto a noi, che è ospite, amico della manifestazione da sempre, la inaugura ormai da tanti anni, non si può cominciare, strane coppie, senza Giuseppe Montesano, e che tra l'altro, come dire, ha all'interno della sua produzione un libro straordinariamente importante che è Lettori selvaggi, che contiene nel sottotitolo, il sottotitolo recita per l'esattezza dai misteriosi artisti della preistoria, a Saf, a Beethoven, a Borges, la vita vera e altrove, uno dei due protagonisti dell'incontro di stasera, perché il nostro incontro è tutto dedicato a Borges e a Stevenson. Tra l'altro, possiamo forse già questo dirlo, annunciarlo, a breve, nel corso dell'anno, all'inizio dell'anno prossimo, sarà in uscita I fiori del male, in una nuova traduzione, quindi una nuova avventura bodeleriana, che segue un celebre libro di Giuseppe Montesano, il ribelle in guanti rosa. E vi chiedo poi un applauso per Sergio Garufi. Per la prima volta a Strane Coppio, e speriamo, come dire, di inaugurare una lunga collaborazione. Sergio Garufi è una delle firme più autorevoli del foglio, ma insomma sono tante importanti le partecipazioni giornalistiche, la Sicilia, Liberazione, l'Unità, Diario, e alcuni titoli che trovate, tra l'altro con l'occasione vi ricordo la gentile esposizione fornita da Mux, dei libri dei nostri autori e dei nostri classici, Il nome giusto e il superlativo di amare, due romanzi usciti per Ponte alle Grazie, poi Lui sa perché, Fenomenologia dei ringraziamenti letterari, un libro tra l'altro divertentissimo, che ha molto a che vedere in qualche modo col tema di stasera, apocrifi, ragionamenti intorno ai testi, testi che parlano di testi, insomma raccontare anche le soglie del racconto letterario, probabilmente sarà un tema fortemente borghesiano e che ci farà anche l'onore di raccontarci un ricordo, alcuni ricordi personali legati proprio alla vita di Borges. E poi veniamo, come dire, alla parte, diciamo, artistica della nostra manifestazione. Vi chiedo un applauso per Andrea Renzi, Tutto il pubblico napoletano in particolare lo conosce molto bene, Falso Movimento, Teatri Uniti, un pezzo fondante della storia del teatro della nostra città e d'Italia, tanto cinema, tante serie, e in questi giorni, tra l'altro, avremo l'occasione di applaudirlo al Teatro San Nazaro con Giuseppe Patroni-Griffi, una tragedia reale, va in scena da domani fino al giorno 9, fino a domenica. E le novità della rassegna, chi sta lavorando accanto a noi per la lingua dei segni italiana stanno traducendo per noi Annie Villani e Sara Visciano, che ringraziamo e che vedrete alternarsi in questo ruolo e il coordinamento è di Stefania Cantelmo. E quindi cominciamo questo incontro con l'ultima presentazione, con una novità che ci sarà solo per questo incontro, perché stasera è con noi Luca Signorini. A cui cominciamo di cominciare a prendere posto. Luca Signorini porta qui con noi la musica dal Teatro di San Carlo, il primo violoncello del Teatro di San Carlo, una prestigiosissima carriera che tra l'altro ha fatto incrociare la musica, che come vedete è una novità assoluta di strane coppie per questo incontro. Nei prossimi anni speriamo di consolidarla, ma anche una passione per la scrittura. Ci sono ormai diversi libri a firma di Luca Signorini, l'ultimo è Il discorso delle mele, uscito per l'erudita, ma insomma il violoncello è, come dire, per lui frutto e materia di una lunga produzione. Suona per l'orchestra di Santa Cecilia, la Scarlatti di Napoli, il maggio musicale fiorentino, appunto il San Carlo, diretto da grandissimi, ha inciso tantissima, tantissima parte del suo repertorio e tra l'altro insegna il violoncello, il suo strumento, in questo momento anche al Conservatorio di Benevento. A lui, come dire, lasceremo alcuni spazi di suono e con lui cominciamo, iniziamo quindi, Strane Coppie 2020. Grazie Antonella, grazie per avermi invitato, sono onoratissimo, sono emozionatissimo e mi è stato chiesto di dire due parole sui brani che vado ad eseguire e in questa prima serie di brani vi saranno una preludio in re minore di Johann Sebastian Bach e un langsam da una sonata per il denuncello solo di Paul Hindemith. I due compositori hanno delle affinità, ci sono delle rispondenze, insomma, Hindemith si è ispirato molto alla musica di Bach e su Bach vorrei, ho cercato qualcosa di interessante e vorrei citare proprio Giuseppe Montesano, se me lo permette, perché è molto bello ciò che scrive quando parla delle suite per il venuncello solo di Bach. Arabesco e trance di uno sciamano da salotto che danzando muore e rinasce. Logica implacabile che fiorisce nel melos e con gli astri che si fanno carne illuminata dall'inimitabile Eros Bacchiano. Complimenti a Giuseppe perché è già e ancora una frase interessante di Godofsky cioè che a proposito di Bach dice delle suite per il venuncello dice si percepisce un colosso in catene un gigante che tenta di adattare i suoi poteri ai limiti del suo mezzo di espressione. In effetti questo strumento era nuovo all'epoca, era uno strumento che non aveva una sua letteratura e soprattutto è uno strumento che non è polifonico e Bach che è il maestro della polifonia riesce a far diventare il violoncello uno strumento polifonico con una polifonia nascosta ma quanto mai presente. E poi Langsam di Indemith e Indemith nella sua fase espressionista c'è un'opera importante che fu giudicata blasfema oscena che è del 1922 lo stesso anno in cui fu composta questa sonata per il violoncello solo e quelle tinte che ora non vi sto a raccontare perché l'opera è semplice e complessa al tempo stesso si possono ritrovare in questo tipo di musica che vado ad eseguire. Grazie. 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 E dalle geometrie e dalle ombre che la musica ha già creato entriamo in questa serata dove si parlerà di tigri, di spade, di tesori, di formule chimiche, di trasformazioni alchemiche, di labirinti, insomma, di Borges e Stevenson e dei loro fantasmi. Cominciamo con un attraversamento delle vite di questi due straordinari autori. Sono già a ombra l'una dell'altro perché in qualche modo Borges non fa che citare Stevenson continuamente, lo fa all'interno della sua prosa, lo fa spesso all'interno della sua poesia. In pochi anni in realtà si sta a metà dell'Ottocento facendo un giro di Boe importante perché fra il 1850 e il 1856 nascono Borges, Wilde e Freud a distanza di pochi anni, con tutti i temi che in qualche modo Freud richiamerà e che sono già dentro gli autori che nascono nello stesso decennio. Il giro di Boe è cominciato qualche anno prima, tra il 1816 e l'anno di Peter Schlemil, in cui Ciamisso scrive della disavventura di un uomo che si vende l'ombra in cambio di una borsa di denaro e da quel momento, a distanza di pochi anni, Gielisir del diavolo con una quantità di immagini doppie, di sosia, di inganni, Ernest Eodor Amadeus Hoffman. Insomma, si sta delineando questa linea inquietante, labirintica appunto, raddoppiata di doppelganger, di personaggi che si moltiplicano, che si manifesta dentro la vita e l'opera di Robert Louis Stevenson, di quest'autore che di solito è, nelle nostre vite per diverse generazioni, noto come un autore per ragazzi, come se fosse appunto soltanto un autore che ci porta in fasi e spazi di divertimento, di avventura, ma che è in realtà scrittore di grandissima, straordinaria profondità e di profonde inquietudini. Stasera saremo soprattutto intorno al dottor Jekyll e Mr. Hyde, ma in ogni sua opera il tema del doppio e dell'ombra si moltiplica. Cominciamo quindi con Giuseppe Montesano e con la vita, in qualche modo, di questo grande scrittore. vita anche questa, come dire, con delle ombre importanti, la malattia, una tata che racconta terribili storie di notte, cammi, un padre impegnativo, la religione presbiteriana. A Giuseppe Montesano l'inizio. Sì, vabbè, diamo qualche data, troppo vicino, diamo qualche data, diamo qualche data su semplice. Veramente, prima vorrei fare un augurio, insomma, a tutti noi. La vita di Stevenson, secondo me, è tale da riempire di gioia chiunque. Di solito gli scrittori sono lagnosi, lamentosi, ipocondriaci, malati. Sono malattie amabili, in qualche modo, che ci fanno innamorare. Ma Stevenson è diverso, perché pur essendo davvero malato, ha reagito a questa cosa e l'ho accompagnato all'età di sei anni. Aveva una malattia ai polmoni di cui non si sa esattamente oggi, perché allora le diagnosi non erano proprio simili alle nostre, se fosse tubercolosi, se fosse un altro tipo di malattia. Comunque migliorava con il clima buono e peggiorava con il clima, diciamo, freddo-umido. Per cui a sei anni lo portano a svernare. Lui era scozzese, quindi il clima era quello che era. E per tutta la vita reagisce a questa cosa con una, non lo so, con una festosità quasi, con un amore straordinario per la vita, che per me è sorprendente, perché ha dato poi, tanto per darvi un'idea, origine in 44 anni di età. Lui è morto un mese dopo il 44esimo compleanno, festeggiato nell'isola di Samoa, tra l'altro, insieme agli indigeni. Questo libro è 1100 pagine, è scritto, non so se si vede da lì, in carattere da diventare ciechi dopo massimo 100 pagine, e in italiano si arriva a 4500 pagine, tutte di qualità. Ora, alcune più belle, alcune straordinarie, altre semplicemente simpatiche, ma tutte che non scendono mai al di sotto dell'invenzione ingegnosa, della sveltezza e la freschezza e la gioia di vivere, o del labirinto, come si è detto. E' un insegnamento maggiore di questo, un uomo che a un certo punto ha avviato dal padre, tutta la famiglia era di ingegneri civili, il padre si occupava in particolare della gestione dei fari, i fari lungo le coste della Scozia e dell'Inghilterra, eccetera. Ne ha progettati, ne ha costruiti, eccetera. Due fratelli ingegneri, era una famiglia abbiente, molto abbiente. La famiglia della madre, il bisnonno era ingegnere civile, il nonno era pastore presbiteriano con una vasta e ricca parrocchia. Insomma, è nato nell'agio, è nato in una situazione, se vogliamo, molto favorevole, e nello stesso tempo a un certo punto ha detto non voglio fare quello che fa tutta la mia famiglia, ma voglio fare lo scrittore. E' stato anche un po' fortunato, perché poi la leggenda, è un caso fortunato, di solito questo Kafka, non poteva nemmeno dire al padre che scriveva, si nascondeva per scrivere. Stevenson dice questa cosa a 18 anni circa, anche un po' prima, e il padre lo accetta, perché a sua volta il padre scriveva durante piccole favole, nonsense, quindi era l'idea che il figlio facesse lo scrittore non lo spaventava, seconda fortuna di Stevenson. La madre era una donna estremamente brillante, suonava anche bene il piano, era una raccontatrice di storie, per esempio, non solo la balia e le persone di casa, ma la madre anche, era una raccontatrice di storie, e Stevenson comincia a scrivere appena impara a scrivere. Cioè nel senso che scrive storie dall'età di otto anni, perché poi, sorpresa, impara a scrivere due o tre anni in ritardo rispetto ai coetanei. Prima di imparare a scrivere però è uno scrittore orale, anzi un bambino scrittore orale, nel senso che le storie non sa scrivere ma le racconta. E la tata, cioè la tata adulta, le trascrive, per cui si sono ammucchiati e persi enormi quantità di storie infantili di Stevenson, che a sedici anni pubblicò il suo primo libro, glielo pubblicò il padre in pratica, per farvi capire quale apertura mentale poteva avere la borghesia di un tempo rispetto all'infamia in cui siamo precipitati oggi, l'ingegnere civile, il figlio con i capelli lunghi, perché poi Stevenson si entrò proprio nel personaggio dell'artista, cappelli a falda larga, e vedremo poi con Wilde, capelli lunghi, boccoluti, eccetera, per un periodo abbastanza lungo, barbetta appunto e via dicendo, e gli pubblica il libro a sedici anni perché è orgoglioso che il figlio lo scriva. Quando lo delude perché il figlio dice non farò mai quello che fate voi, gli dice soltanto però per favore, che è cosa quasi commovente a questo punto, prenditi una laurea almeno in legge, che sembra quasi il consiglio delle vecchie zie, dice prenditi una laurea, non si sa mai, Stevenson dice vabbè, dato che prendersi una laurea in legge in Scozia all'epoca sostanzialmente significa leggere qualche libro e basta, fa questa cosa e a ventun'anni comincia a vivere, diciamo così, da scrittore. Fa anche dei viaggi di cui ha raccontato, più che viaggi non li chiamerei, escursioni ancora, cioè anche se sono escursioni serie in canoa e via dicendo, nonostante la salute, poi incontra l'amore della sua vita e le sposa una donna di dieci anni più grande, americana, quindi immaginate scozzesi, europei, fino al midollo, cioè se avesse sposato una francese non avrebbero detto niente, ma l'americana e dieci anni in più e con due figli, quello fu invece il momento in cui la famiglia lo, diciamo così, lo allontanò, o meglio lui si allontanò perché loro non accettavano questa scelta, scelta, ma ormai stava facendo lo scrittore e dopo pochissimo ebbe un successo clamoroso per l'epoca, l'isola del tesoro, per cui cominciò a vivere liberamente la scrittura. Conservò comunque i legami con la famiglia, ma legami molto deboli perché avevano rifiutato questa... c'è una commovente foto, non so se loro la fanno scurre, insomma, comunque quella di Stevenson un anno prima della morte a Samoa con la moglie e le figlie di lei e c'è questa faccia di quest'uomo malato sostanzialmente, però lo sappiamo noi che è malato, alla faccia si vede un sorriso di quelli, direi quasi interiori, di chi è felice dentro, di chi è felice perché è creativo tutti i giorni, Stevenson scriveva in continuazione e scriveva perché gli faceva piacere scrivere. Tra l'altro ha scritto anche una cosa con questa moglie americana e la moglie ha scritto un racconto dentro una sua serie di racconti che potrebbe benissimo aver scritto lui, cioè anche in questo modo ha scritto un altro libro insieme a un giovanissimo scrittore inglese che poi si è perso, diciamo. Cioè lui aveva anche questa apertura un po' anzitempo sull'idea della letteratura e della scrittura come una specie di continuo circolo e circolazione di storie, racconti, temi, un po' come l'infanzia a cui ha accennato Antonella e quello che vi dicevo, cioè che prima di scrivere raccontava storie e chiedeva di trascriverle. Poi le cose più famose insomma sono... Mandò in America poi a vivere, girò un po', cercava dei posti in California in particolare, cercava dei posti dove la temperatura, insomma il clima più che la temperatura fossero adatte alla malattia, fino ad arrivare negli ultimi anni con un po' controvoglia, cinque anni prima di morire, quindi a 39 anni, immaginate che mentre succede questo scrive tutti i suoi libri, 4.500 pagine di letteratura di alto livello o perlomeno di livello buono e si innamora sul posto dei mari del sud, perché gli era stato proposto di scrivere un libro, lui dice sì, poi in realtà non lo scrive, poi va sul posto e dopo pochi mesi scrive il libro che non aveva voluto scrivere con anticipi, dati, soldi eccetera, perché si innamora del luogo semplicemente, scrive anche in difesa del modo con cui vengono trattati gli indigeni, ma soprattutto credo che trovi un proprio luogo dove stare, sempre o a lungo, in realtà è pochissimo, troppo perché 4 anni dopo muore proprio a Samoa, dove viveva in un'isola, cioè in una piccola casa, la villa, dicono, basta vedere una foto, era una casa semplicissima di legno, giusto il necessario per vivere e viaggiare, ma senza nemmeno le esagerazioni di Gauguin, diciamo, d'artista maledetto che no. Stevenson è veramente un caso unico in questo senso, era gentile con tutti, tutti quelli che lo hanno conosciuto, non aveva le bizze tipiche di noi scrittori che cadiamo in stati, niente, nonostante, ripeto, la malattia era, reagiva a questo evidentemente con questo straordinario e stratosferico insorgere continuo di fantasia, perché poi la cosa bella è che Stevenson, famoso per molti aspetti, per molti anni durante la vita, è stato uno scrittore, al contrario di altri, diciamo così sfortunato in morte, per farvi capire, scrittori mediocre stanno nelle antologie inglesi da sempre, uno scrittore come Stevenson è stato cancellato dalle antologie, questa è una cosa che ho scoperto poco tempo fa, cercavo una notizia e ho trovato questa, dal 1968 al 2000 tutti i libri di scuola delle medie e delle elementari dove c'era qualche pezzetto Stevensoniano via, cioè diciamo così tra i massimi scrittori di lingua anglosassone, ma in realtà inglesi, è stato nominato per quasi per 30 anni e più Stevenson ed è ritornato nei libri di scuola 40 anni dopo, nel 2006 e ancora oggi la sua fama in Inghilterra è molto altalenante, perché è considerato invece uno scrittore degli stranieri, cioè di quelli che lo traducono sostanzialmente, perché per quanto sembri bizzarro a noi non è considerato nel grande flusso dei grandi scrittori inglesi, ma questo è cominciato quasi subito, per esempio, diciamo sorpresa, diciamo una cosa contro Virginia Woolf, perché è vero, è da dire, in questo caso lei attaccò proprio Stevenson e il marito, il mitico Leonard Woolf, che era un uomo potente nel campo letterario con tutto il suo gruppo di Blomsbury, attaccò Stevenson, cioè fecero proprio terra bruciata, dicevo questo qua è sopravvalutato, non è nessuno, uno scrittore di serie B, di serie B, di serie B. Questa cosa ha vinto negli anni 20-30 e si è affermato, come poi vi ho detto, pian piano è uscito fuori dai libri, fino a sparire proprio, sparire dai libri di letteratura inglese, cioè come dire, come se, non lo so, come se Verga sparisse, non c'entra niente come, ma come importanza della letteratura italiana dell'Ottocento, Verga fosse tolto e diceva, beh, Moravia nel 1930 ha detto che Verga deve morire, più o meno questo è il concetto, giusto per farsi un'idea di come si combattono battaglie letterali, ciò nonostante Stevenson resiste al tempo, soprattutto, come posso dire, semina, ha seminato nel tempo influssi su tutti e su tutte, poi è uno scrittore comunque in riserva delle sorprese, alle quali poi ci dedicheremo quando leggiamo direttamente il pezzo di Stevenson. Gliel'aveva forse probabilmente un po' tirata, ma anche preannunciata, Henry James, che diceva, che fai nelle isole Samoa, torna, non mi lasciare solo, muore Henry James e comincia a diventare famoso, muove Stevenson, invece qualcosa, qualcosa capita, e poi invece la vita di Borges, ma poi siamo sicuri che possiamo parlare della vita di Borges, lui incontra se stesso all'interno del libro di sabbia, nella parte finale della sua vita, in uno dei suoi racconti, e quante vite ci sono di Borges, è una geografia letteraria, è una geografia anche di relazioni e di persone con Silvina Ocampo, con Adolfo Bioi Casares, insomma, c'è davvero la biografia di Borges, a Sergio Garufi il compito di raccontarci, da forse in comune con Stevenson, il nomadismo, da un continente a un altro, per un certo periodo, e come dire, una certa attenzione, in questo senso, come dire, all'Europa e ai luoghi che si collegano a lei. Sì, riprendendo, se Stevenson era uno scrittore per stranieri, Borges è stato a lungo considerato uno scrittore per scrittori, e questa voleva essere una definizione un po' riduttiva, limitante, non elogiativa, e per la verità oggi, che scrivono tutti, è diventato popolarissimo, infatti, ma lo era già in vita. Lui è nato, vabbè, per avere qualche idea, è nato nel 1899 a Buenos Aires, figlio di un avvocato colto, amante della letteratura inglese, aveva questa grande biblioteca di letteratura inglese dove lui si è formato, a tal punto da aver letto il Chisciotte in inglese, e quando da adulto, poi gli è capitato di leggerlo in originale, ha detto che gli faceva l'impressione di una brutta traduzione. Sì, lui era molto legato, ma anche al tipo di libro, dice che il Chisciotte suo era l'edizione Garnier con le lettere oro sul fondo rosso, e amava anche proprio con quelle note a margine, con quegli errori di stampa, per cui per lui il Chisciotte era quello, e già tu capisci che racconti come Pierre Menard, autore del Chisciotte, che sono uno dei capitoli della storia della letteratura del Novecento. Per la verità c'è stata una definizione molto bella di Riccardo Piglia, che è un critico argentino, a me molto arguto, molto brillante, che diceva di Borges che era il miglior scrittore argentino nel siglo XIX, cioè nell'Ottocento, quindi qualche cosa con Stevenson. Borges amava moltissimo Stevenson, in tante, anche nell'abbozzo di autobiografie, in tante interviste, lo nomina, dice che in quei suoi primi anni di studio matto e disperatissimo nella biblioteca paterna di letteratore inglese, popolava alcune immagini, alcuni personaggi di Stevenson, come il bucaniere cieco, che muore in quel modo orribile sotto i chizzoccoli di un cavallo, erano uno dei suoi sogni ricorrenti. Comunque nasce nel 1899 a Buenos Aires e, se non sbaglio, verso il 19 va con tutta la famiglia a Ginevra per problemi di salute del padre, perché il padre stava perdendo la vista e temeva di diventare cieco, perché i Borges, i ramo paterno, sono stati ciechi per sei generazioni ed è una cosa che poi ha ereditato lui stesso. Tra l'altro lui è molto legata ai libri questa cosa, perché la madre raccontava che per lui era talmente goloso di leggere che se non obbediva gli toglieva come se fossero dei dolci e lui ha un po' legato questa... come se portasse con sé il castigo della cecità, questo vizio impunito. Vanno nel 19 a Ginevra, lui studia al collegio Calvino, il liceo, lui non si laureerà mai, torna a Buenos Aires poco dopo, un paio di anni dopo e inizia come... la sua carriera, insomma, la sua parabola artistica inizia come poeta di composizioni... fondano proprio un movimento, l'ultraismo che metteva al centro di tutta la metafora, arriva ai racconti per cui è molto famoso in realtà dopo i saggi, perché dopo la poesia inizia con dei saggi e tutte sempre cose molto brevi, anche i racconti. Per esempio, lui non ha mai scritto una volta una persona, mi hanno presentato una persona che ha detto, ah tu hai conosciuto Borges, che grande, io lo amo moltissimo e gli ho chiesto qual è il tuo preferito, ah non mi ricordo, un romanzo... e lui secondo me è uno scrittore per pigri, perché usa molto la condensazione e tra l'altro ha anche un metodo nei suoi racconti che è un po' dantesco quello di concentrare il destino di una persona in un evento, in un momento rivelatore. È sempre scritto cose molto brevi, cioè i suoi libri sono composti da un certo numero di poesie o di racconti o di saggi che non superano mai le dieci pagine. Credo che il più lungo sia nuova confutazione del tempo, che è un saggio secondo me bellissimo e che è straordinario già dal titolo, che è una presa in giro, perché nuova confutazione del tempo, già nell'aggettivo implica una successione temporale. La fama arriva tardi perché secondo me scrivere cose non facili. Oggi proviamo a immaginarci un racconto così complesso come Tlon Huckbar Orbis Terzius, in cui lui quasi praticamente ribalta la sentenza di Mallarmé per cui tutto il mondo confluisce in un libro e arriva a dire che invece il prodotto della undicesima edizione dell'enciclopedia britannica sta in una voce. Lui scrive delle cose estremamente complesse, i giardini dei sentieri che si biforcano e inizierà a essere tradotto in Francia negli anni 50 e diciamo che nel 61 riceve il premio Formentor ex equo con Beckett, dove voi pensate quando si parla male di premio Terari che lungimiranza quel premio lì. Tra l'altro ci fu una battuta accettissima ma bellissima di Nabokov a cui chiesero cosa ne pensava dei vincitori di questo premio di Beckett e Borges e lui disse Borges non l'ho mai letto, Beckett purtroppo sì, come uccidere con tre parole. Dopo il 61 inizia ad avere un successo planetario che viaggia moltissimo in questo senso sì, nomadismo, ma lui in realtà secondo me è uno stanziale che poi si è fatto ubriacare dal successo anche perché la verità è che lui è diventato cieco a 50 anni, completamente cieco a 50 anni per cui non sapeva esattamente bene, io ricordo una volta accettò un invito, io lo incontrai in diverse occasioni una volta a Senago da Verdiglione, non so se vi ricordate il famigliato Armando Verdiglione e c'era e in molti gli contestavano, volevi dire? era un personaggio, aveva qualcosa di luciferino e insomma girava il mondo, andava dovunque, un'altra volta a Milano nell'Aula Magna io andai a trovarlo, c'era questa conferenza, aveva accettato l'invito della Aging Foundation che era una fondazione che si occupava di problemi di salute degli anziani, di continenza, e lui andava lì, parlava di letteratura ovviamente, chi lo invitava? Alcuni sostengono che proprio l'aver accettato in modo, anche perché poi era sempre accompagnato da qualche segretaria donna che poi alla fine è diventata anche la moglie che si occupava tutta lei. Aveva accettato di tutto, gli è costato il Nobel perché quando sono stati dissecretati alcuni atti è uscito fuori che uno dei maggiori accademici svedesi, Arthur Lundqvist, gli rimproverò in un'ordinione di aver preso un premio da Pinochet, che in realtà era un premio dello Stato cileno. Ricordo poi un titolo di un articolo sull'Espresso che diceva il più grande scrittore del mondo, lui ha avuto, diciamo nella vecchiaia aveva una, poi forse anche il Physique du Role, no? Cieco, anziano, insomma il nuovo Mero, il bastone e io l'ho incontrato proprio come un ragazzino che... ricordo che avevo la... diceva leggere le terze pagine, quando le terze pagine stavano dove dicevano di essere. Io la sera aspettavo con ansia che mio papà ritornasse dall'ufficio, era un avvocato, e leggevo il Corriere della Sera, la terza pagina, e una volta lessi questa frase, che sopì moltissimo, mi sembra di Pietro Citati, che diceva l'ultimo grande mostrosacco della letteratura mondiale. Allora io pensavo, cavolo, avevo 17 anni, e pensavo, magari c'è Dante e io, come nel 300, io non lo conosco, no? No, voglio leggere un libro suo. E comprai un suo libro, che era l'ultimo, appena uscito, che era stato recensito da che giorno prima, una raccolta di poesie, si chiamava La Cifra, col senno di poi probabilmente il suo libro peggiore, più brutto, e rimasi folgorato, rimasi folgorato dalla dedica iniziale, già la dedica iniziale a questa donna, Maria Codama, che poi è quella che me lo farà conoscere, che lui sposerà, una dedica bellissima, è fortunata, questa è Beatrice, chissà se si rende conto di... e poi, niente, quando la prima volta che arrivò in Italia, io andai lì come uno stalker, così, eccetera, e a poco a poco, dal dal, si dice qua, abbiamo, ci siamo rivisti diverse volte, riconosceva la mia voce, è stato... la prima volta è stata a Venezia, e io sapevo in che hotel stava, chiesi a mia madre, che era spagnola, a mia madre di telefonare in quell'albergo e chiedere un appuntamento, e richiamai su due minuti dopo, e lei mi disse, sì, c'è un appuntamento domani mattina, no. Non dormi, non avevo né albergo, non è niente, stete a camminare per le case di Venezia tutta la notte, poi, una mattina mi presentai, e questa, la sua segretaria, che poi alla fine ha sposato, Maria Codà, ma, in modo molto scocciato, cioè, scese, perché alla reception la chiamarono, dicendo, ma che vuoi, ma io c'ho, io devo vederlo, invece non era vero, mia madre dopo mi ha detto, che gli aveva detto di no, ma se io, mia madre era così, lei, il suo motto era il no, y'allotienes, no, siccome io ero molto titubante, diceva, il no già ce l'hai, e diceva, sì, sì, c'è appuntamento, invece non ce l'avevo. Per la verità, devo ringraziarlo per tutta la vita, perché è stata una cosa, cioè, io sono stato accompagnato da questo cameriere, questo abbussato, aperto la porta e se n'è andato, io ho visto Omero seduto sul letto, e tra l'altro lei, Maria Codà, mi aveva detto, vabbè, stai con lui il tempo della colazione, aiutalo a fare colazione, siccome era cieco, era sul letto, aveva la tazza fumante di, non so, cappuccino, così, e io esitavo a entrare, perché avevo paura, lui evidentemente sentiva questa esitazione, e mi disse, lasciate ogni speranza voi che entrate in italiano, stavo già cadendo giù come una, stavo svenendo, siamo stati, credo, un'ora, io gli ho allacciato le scarpe, gli ho fatto il no della cravatta, gli porgevo la tazza della cosa, e abbiamo parlato, lui conosceva undici lingue, mi ha detto quali erano per lui i versi più belli di ogni lingua, e io ero ubriaco, non capivo più niente, per me era, e tra l'altro stavo con questo uomo intelligentissimo, che aveva un modo di attribuirti le sue genialità, perché ti, diceva come mi hai fatto capire, come, chi, no? Grazie per, ma di cosa, così, io, e questo è stato così, primo incontro. Certo, poter incontrare, questo non lo possiamo fare, Stevenson di persona, ma possiamo cominciare a sentire un pezzo del dottor Jekyll e Mr. Hyde, Andrea Renzi. Sul lato sinistro della strada, in direzione est, la linea degli edifici è interrotta dal varco di un cortile, a due porte dall'angolo, proprio in quel punto, un palazzotto sinistro, incombeva sulla via con il suo frontone. Alto due piani, non aveva finestre, c'era solo una porta al pian terreno, una cieca facciata scolorita nella parte superiore. Tutto mostrava i segni di un prolungato e squallido abbandono. La porta, senza battente nel campanello, era stinta e scrostata. I vagabondi si trascinavano ciondolando nel vano e sfregavano i fiammiferi sui pannelli. I ragazzini mettevano su bottega sui gradini e non c'era studente che non avesse provato il suo temperino sulla cornice. E da almeno una generazione nessuno si era più preso la briga di cacciare via quei visitatori sbandati o di riparare i loro danni. Enfield e l'avvocato procedevano sul marciapiede opposto finché, giunti all'altezza dell'ingresso, il primo glielo indicò, sollevando il bastone da passeggio. «Avete mai notato quella porta?» chiese. E alla risposta affermativa del compagno aggiunse «Non posso più fare a meno di associarla a una storia molto strana». Davvero, sono con una lieve alterazione della voce. E di che storia si tratta? «Bene, è andata così», cominciò Enfield. «Saranno state le tre di una nera mattina d'inverno e me ne tornavo a casa da un qualche posto in capo al mondo, attraversando una parte della città dove non c'era da vedere letteralmente niente. Niente all'infuori dei lampioni. Una strada dopo l'altra e tutti dormivano. Una strada dopo l'altra e tutto illuminato come per una processione. E tutto deserto, come in una chiesa». Alla fine sprofondai in quello stato d'animo in cui non si fa che tendere l'orecchio e si comincia a sperare ardentemente di veder comparire un poliziotto. All'improvviso scorsi due figure. Un uomo piuttosto piccolo che marciava con passo spedito lungo la strada principale e dall'altra parte una bambina di otto, dieci anni, che veniva giù da una via attraversa correndo a più non posso. Ebbene, signore, come era facile prevedere, all'angolo i due si scontrarono. E adesso viene il fatto più atroce. L'uomo travolgò la bambina. La calpestò. E senza scomporsi, passò oltre lasciandola gridare sul marciapieno. A raccontarla sembra una cosa da niente. Ma fu una scena infernale a vedersi. Quello non sembrava neppure un essere umano. Sembrava uno jugernaut indemoniato. Lanciai un grido d'allarme, mi precipitai all'inseguimento, acciuffai il galantuomo per la collottola e lo trascinai dove si era già formato un capannello intorno alla bambina ancora in lacrime. Lui assolutamente glaciale. Non oppose resistenza. Mi lanciò giusto un'occhiata, ma talmente truce che mi ritrovai coperto di sudore come se avessi fatto una corsa. I primi ad accorrere erano stati i familiari della ragazzina. Avevano mandato a chiamare un medico che di lì a poco fece la sua apparizione. Bene, per la piccola era escluso il peggio. Più che altro, un grande spavento stando alle parole del nostro segaossi. E con questo la vicenda si sarebbe potuta ritenere chiusa se non fosse stato per una curiosa circostanza. Quel galantuomo mi aveva ispirato ribrezzo a prima vista e altrettanto era successo alla famiglia della bambina il che era abbastanza naturale. Non mi aspettavo invece la reazione del medico era il classico speziale e di età imprecisabile con un forte accento di Edimburgo e la sensibilità di un pezzo di cuoio. Ebbene, signore, anche lui reagiva come noi. Ogni volta che guardava il mio prigioniero il segaossi sbiancava e fremeva in preda a una tentazione omicida. Sapevo cosa gli passava per la mente come lui sapeva cosa passava per la mia. Scartata comunque l'ipotesi di uccidere chi che sia prendemmo in esame un'altra soluzione. Minacciammo il nostro uomo che potevamo e ne avevamo tutta l'intenzione infangare il suo nome con un tale scandalo da sentirne il fetore da un capo all'altro di Londra. Poteva stare certo che avrebbe perso amici e reputazione se ne aveva. Mentre lo torchiavamo a dovere, però, avevamo il nostro bel da fare a tenerlo lontano dalle grinfie delle donne infuriate come arpie. Non ho mai visto rotondo di facce così cariche d'olio. E al centro quell'uomo glaciale col suo bigno nero spaventato, certo, e si vedeva ma pronto a sfidare il mondo come fosse Satana sarà in carne e ossa. Se avete deciso di approfittare di quanto è accaduto sono ovviamente impotente. Un gentiluomo non desidera altro che evitare scandali. Ditemi il vostro prezzo. Ma questo è non è proprio l'inizio ma quasi del dottor Giacchile Messerai lo strano caso del dottor Giacchile Messerai sono due pagine credo Andrea non di più che sembrano già tre storie quattro storie cinque storie da quella apparente passeggiata in solitudine che poi si affolla di colpo credo che abbiate eseguito tutti bene il racconto perché Stevenson sostanzialmente fa anche cinema nel senso che le sue descrizioni sono non eccessive brevi rapide si vede il posto la porta che per un attimo ci distrae o meglio attira la nostra attenzione ma non è in quel momento la cosa importante tornerà dopo e poi compare questo strano essere il caso di dire che provoca quello che avete letto ripugnanza orrore odio addirittura con quel piccolo dettaglio nemmeno caricato troppo calpestò la bambina cioè la bambina è caduta questo un altro scrittore ci avrebbe ecco la differenza per esempio avrebbe speso tre righe almeno sembra un po' un romanzo feietono sguardo truce un altro paio di espressioni del genere ma non lo è perché calpestò una sola un solo verbo le è passato addosso l'ha urtata la spinta la bimba è caduta e lui ha continuato quasi come una macchina o sarebbe il caso di dire come una bestia nel senso letterale che poi noi sappiamo e che il lettore la prima volta che legge non sa attenzione non sa perché sta leggendo ora ti racconto una storia anche con questo tono un po' indolente tipico di certa letteratura ottocentesca anche Conrad a volte faceva così dice ora tizio mi racconta la storia mi hanno detto questo e via dicendo in realtà siamo subito dentro l'azione ma è un'azione psicologica ecco questa è la la strana caratteristica di Stevenson è che non è uno scritto psicologico diciamo così assolutamente no non descrive mai realmente come uno scrittore moderno cosa accade nella testa di qualcuno ma è uno scrittore di movimento dove però i movimenti sono le azioni avvengono a causa di ragioni diciamo emotive passionali per cui sono spinti dalla psicologia questa è la la particolare distanza niente psicologia reale cioè descrizione si sentiva così ma azione spinta diciamo così da quello che accade dentro qualcuno in questo caso stiamo entrando nella storia di Jacky Lehyde cioè di una persona singola che in realtà è due persone ora una cosa brevissima su questo che poi è la più interessante in un certo senso sapete tutti credo dal film o dalla lettura spero la lettura perché la lettura è di molto superiore al film per un motivo semplice per questo che avete letto cioè non sappiamo ancora niente in questo momento avvertiamo solo la presenza di qualcosa lui dice dall'inferno il male chi lo sa per Stevenson è questo in realtà ma il dottore che si trasforma nel contrario dell'uomo civile cioè in una sorta di bestia selvaggia perché poi anche su questo Stevenson diciamo è elittico si usa dire cioè nel senso non dice mai fino in fondo che cosa realmente fa il dottore quando si trasforma a questo proposito vi suggerisco la lettura di uno dei più straordinari fumetti graphic novel che io abbia letto negli ultimi dieci anni addirittura ispirato ad argomenti letterari è appunto il dottor Jack e il mister ride di mattotti scritto insieme però a un bravo sceneggiatore è un sottilissimo fascicolo non è lungo assolutamente straordinario dove l'idea geniale è davvero va a letto l'idea geniale è far vedere ciò che Stevenson non nasconde che è pericolosissimo perché noi non vogliamo è bello avere il mistero che ciò che si non nasconde non ve lo dico ciò che si vede nel fuetto anche lì lo si vede soltanto in una tavola per così dire e c'è questa raffigurazione del mostro chiamiamolo così straordinaria proprio graficamente esce quasi dalla pagina e viene da noi e ci toglie il sonno seriamente consiglio questa lettura di un fumetto letterario insomma per dire la cosa che mi interessa è che è vero che lui prende la pozione la medicina e via dicendo ma lo sdoppiamento come si diceva prima è lo sdoppiamento di una persona attenzione l'altro la bestia chiamiamola così il mosto il mostruoso l'alieno l'uomo nero l'ombra è sempre lui chi lo ha fatto quel mostro da dove viene da dove vengono le sue caratteristiche perché è violento perché calpessa freddamente la bambina perché fa oscure cose di notte che alludono probabilmente anche addirittura delitti sessuali come immagini amattotti che ho detto è lui è il buon dottore eticamente professionalmente etico serio posato tranquillo intelligente per bene e tutto il resto che di notte o di giorno non è importante per Stevenson si trasforma in un'altra cosa nell'altro da sì ovviamente questo molto prima di Freud è il tema di qualcosa che io ho dentro un altro me stesso un altro io che esce fuori c'è anche in Dostoevsky una cosa del genere e a sorpresa uno che non c'entra niente con Stevenson Dostoevsky è stato letto da Stevenson non lo scrive mai in un suo saggio eccetera ma in una lettera con un elogio stratosferico e sorprendente perché vi ho parlato di uno scrittore felice in un certo senso forse ho esagerato un uomo felice dal mio punto di vista ma uno scrittore capace di attraversare tutte le gambe dello strumento un pianista che riesce a toccare tutte le sonorità e quindi lo sdoppiamento della personalità l'io non è un solo io ma c'è un'ombra dentro di noi è talmente ossessionante questa cosa in Stevenson che ritorna in un romanzo abbastanza una volta famoso oggi nessuno lo legge si chiama Il Signore di Ballantri il master of ball ed è fatta stavolta con due fratelli che la lettura superficiale dice chiama Bele Caino diciamo così il fratello buono il fratello cattivo è di nuovo lo sdoppiamento che per essere romanziscamente accattivante e creare proprio il conflitto la lotta lungo il tempo addirittura lungo una vita intera è fatta attraverso due fratelli c'è l'elemento melodrammatico per così dire dei fratelli che si odiano a causa anche di una ovviamente di una questione amorosa e via dicendo ma non è vero perché in realtà tutto si potrebbe riappianare ma non si riappiana perché i due sono la stessa persona vista dall'altra parte perché poi si scoprirà che il buono sviluppa elementi diciamo di cattiveria fintamente per difendersi e il cattivo non è realmente cattivo per cui di nuovo siamo in questo sdoppiamento è uscito poi qualche anno fa in Inghilterra poi è stato anche tradotto in Italia non saprei dirvi se è una non mettere la mano sul fuoco sull'autenticità un abbozzo di romanzo giovanile di Stevenson dove c'è esattamente di nuovo lo sdoppiamento sono 50 40 pagine non di più già all'inizio di un libro il figlio di un figlio diciamo così che passa in queste pagine da voler uccidere il padre e amarlo profondamente proprio con lo stesso meccanismo diciamo non è stizofrenico in senso tecnico ma di oscillazione massima tra la luce e l'ombra in 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 Jacky Lehyde naturalmente tocca il massimo perché come vi ho detto è una sola persona questo tema diventerà poi inutile che cioè inflazionerà in questo senso è veramente spaventoso come si vede non venga riconosciuto anche semplicemente un maestro di certi meccanismi perché poi non si conteranno nel novecento a parte Dostoevsky Hoffman e i romantici non si conteranno queste storie dove Jacky Lehyde sono presenti in una forma diversa ma per dire anche un film non straordinario ma pur funzionale come il silenzio degli innocenti ci fa vedere un uomo raffinato per bene colto addirittura che ascolta le variazioni Goldberg di Bach e poi è un assassino non è nemmeno un assassino ma è esattamente un mostro ma ma ne potremmo ne potreste tornando a casa ci ripenserete ne troverete centinaia e la proliferazione diciamo anche un po' stucchevole dal mio punto di vista di un tema che Stevenson ha toccato anche più di Dostoevsky molto forte molto decisa una sola persona è io e l'altro e questa scoperta secondo me vale la pena anche perché è raccontata in questo modo di essere indagata per spostarci adesso su Borges una delle cose che proprio Stevenson racconta in alcuni suoi saggi nel teatro della notte è in qualche modo anche l'immaginazione che c'è dietro il dottor Jacky Lemisteride lui fa una prima versione la moglie la legge Fanny la legge e dice no no non è possibile ma lui ha urgenza di consegnarla e qui la notte fa un c'è un c'è un c'è un c'è un sogno lui ha l'abitudine nei saggi di trascrivere i sogni e anche di mostrare ai lettori che lo vedranno in seguito come i sogni diventano poi la logica narrativa che lui utilizza e lui sogna la scena centrale la scena importante poi del romanzo che nel romanzo è moltiplicata per tre volte e che nella prima versione evidentemente non c'era quella famosa in cui le fiale appunto si mescolano e avviene la reazione chimica e racconta in questi saggi appunto che a scrivere sono per lui i brownies sono degli omini che di notte fanno il grosso lavoro chi scrive cosa eccoci quindi in qualche modo arrivati a finzioni e alla lettura che anticipa l'intervento di Sergio di nuovo Andrea Renzi è una rivelazione confrontare il Don Quixote di Menard con quello di Cervantes questi per esempio scrisse Don Quixote prima parte capitolo nono la verità la cui madre è la storia emula del tempo deposito delle azioni testimone del passato esempio e consiglio del presente avvertimento dell'avvenire redatta nel diciassettesimo secolo redatta dal genio profano Cervantes quell'enumerazione è un mero elogio retorico della storia Menard invece scrive la verità la cui madre è la storia emula del tempo deposito delle azioni testimone del passato esempio e consiglio del presente avvertimento dell'avvenire la storia madre della verità l'idea è stupacente Menard contemporaneo di William James non definisce la storia come un'indagine della realtà ma come la sua origine la verità storica per lui non è ciò che è avvenuto è ciò che riteniamo sia avvenuto le clausole finali esempio e consiglio del presente avvertimento dell'avvenire sono sfacciatamente pragmatiche è anche nitido il contrasto tra i due stili lo stile arcaizzante di Menard in fin dei conti straniero soffre di una certa affettazione non così quello del precursore che impiega con disinvoltura era lo spagnolo corrente della sua epoca come avete capito il il paragone tra i due brani in realtà sono identici questo racconto Pier Menard autore del Quixote per chi non lo conoscesse parla di un poeta simbolista francese dell'ottocento a che si propone il compito apparentemente assurdo di riscrivere il Quixote e di riscriverlo parola per parola e lo scrive come se lo scrivesse da zero lo concepisce faticando come chiunque scriva e l'interpretazione è completamente diversa perché il linguaggio è un organismo vivo che ha che cambia di significato col tempo anche con anche geograficamente quando ci spostiamo in eh ad esempio domani devo parlare all'università alla Sorosola ben in casa di giornalismo culturale mi volevo portare dei un un articolo di Giorgio Manganelli che si intitola Spastici no quando lui fu chiamato dal direttore non so del Corriere della stampa a a come intellettuale a a dire la sua su un caso di cronaca che aveva fatto scalpore cioè un albergatore Ligure che aveva rifiutato il soggiorno a un gruppo di ripeto tra virgolette Spastici questa è una parola che oggi non si può più dire e spesso a noi questa prospettiva ci manca no? mi viene in mente ci sono certe considerazioni del movimento femminista Me Too che ma anche o che so negli Stati Uniti c'è stato un un anniversario di Jackson Pollock e le poste hanno fatto il francovolo e hanno grattato via come la sigaretta che stava fumando mentre faceva il dripping no non c'è non c'è prospettiva non c'è giudizio ecco il tema shadow di questa manifestazione ovviamente si poteva applicare a Borges alla alla cecità e che in lui ha avuto un peso non solo biografico insomma molto forte e qui tra i libri che ha portato Antonella ce n'è uno bellissimo che si chiama l'occhio della sombra l'occhio dell'ombra che fa riferimento proprio a questo dove c'è un inizio di una poesia molto bella che dice nessuno svilisca a lacrime o a rimprovero la magnifica ironia di Dio che mi diede da un tempo la notte i libri perché lui è diventato cieco completamente quando lo hanno nominato direttore della biblioteca nazionale dell'argentina a Buenos Aires quindi quando il sogno di un lettore di poter avere tutti i libri in quel momento lui e lui l'ha affrontato in questo modo stoico eccezionale quindi si poteva declinare in quel modo il tema dell'ombra però a me piace più declinarlo in modo diverso e cioè secondo me c'è un modo infallibile per capire chi è i grandi della letteratura e i grandi dell'arte finiscono diventano delle voci di enciclopedia i fuoriclasse diventano delle voci del dizionario cioè kafkiano felliniano borgesiano è una periore diciamo schermatura borgesiano la vulgata lo fa fa riferimento secondo me a un bricca brac di specchi biblioteche labirinti che non mi convince del tutto che mi sembra molto una formuletta facilmente digeribile con la quale si vuole liquidare qualcosa di profondo e di complesso perché come diceva uno che l'ha capito tutto l'umanità si difende dal genio negandolo e se ne sbarazza riconoscendolo cioè c'è un modo e invece secondo me la vera natura di di quell'aggettivo borgesiano risiede paradossalmente in una stroncatura borgesia è stato acclamato come dicevo prima da tanti in vita ma ha ricevuto anche diverse critiche autorevoli di recente mi avevano chiesto un articolo di dell'ennesimo anniversario perché oramai siamo sono si pensa che la cultura sia qualcosa da commemorare e non da fare comunque ogni tot e io ho iniziato con le stroncature ma le stroncature autorevoli quelle più difficili da tu che conoscevi Rabboni è Rabboni è stato uno dei suoi avversari più terribili e diceva delle cose con Borch si viaggia in alta quota ma con low cost con voli low cost col biglietto di ritorno prepagato poi c'era Elias Canetti un altro grande che diceva lui non non cozza con la pietra la blandisce solo non fa sanguinare la parola e la prima stroncatura che lui ricevette la ricevette da un anonimo erano gli anni trenta da un anonimo critico argentino che si chiamava Ramon Doil che disse una cosa fenomenale e secondo me lui prese questa stroncatura e ne fece la sua poetica perché cambiò totalmente lui disse questa è letteratura parassitaria per cui si sono tutti personaggi secondari si fa finta che Chisciotte non sia stato scritto lo si riscrive cioè si riscrive male quello che era già stato scritto bene questa stroncatura tra l'altro parla del Chisciotte e ne parla prima di Pier Menard che è del 38 39 se non sbaglio questo è del 32 e Borges ne ha fatto il centro della sua poetica perché da lì in poi tutta la sua no per la verità anche prima anche con Evaristo Cariego i suoi racconti e le sue cose sono popolati da figure da ombre da figure di secondo piano da glossatori bibliotecari perfino aiutanti di boss di compadritos di delinquenti della pampa sono tutti Pier Menard è uno di questi un poeta simbolista anonimo che vuole rifare il Chisciotte e formula questa struggente bellissima etica della subordinazione per cui questi personaggi vivono di luce riflessa ecco io se dovessi dire in che cosa amo molto Borges lo amo principalmente perché prima ancora che scrittore è un lettore o meglio è lo scrittore che potrebbe essere il miglior lettore del mondo e lui stesso diceva io sono più orgoglioso dei libri che ho letto che di quelli che ho scritto ed era vero lo diceva in senso ma la seconda cosa che che è stato il mio imprinting perché sì io ero così giovane proprio come le occhie di Lorenz cioè quella quell'attenzione particolare a tutto ciò che l'idea che tutto ciò che è importante che accade nel mondo è accade nell'ombra e se vogliamo l'ombra poi può essere un'ombra evidente come la famosa lettera di Po cioè adesso giorni questo è anche dispersivo una volta giorni fa stavo scrivendo un pezzo per i 50 anni del suicidio di Mark Rothko un pittore che amo molto che è un soldato in pellegrinaggio alla sua casa a New York il mio sogno sarebbe sposarmi alla Rothko Chapel di Houston che è un posto mistico eccezionale e mentre mi soffermavo approfondivo come è stato scoperto il corpo che mi sono appassionato innamorato della storia di questo assistente suo che era un pittore astratto giovane che sperava di diventare un pittore astratto che quella mattina di quel mercoledì 25 febbraio 270 è andato come tutti i giorni a lavoro a 9 di mattina ha aperto la porta salutato non c'era nessuna risposta ha trovato il corpo e mi sono appassionato talmente tanto che sono arrivato addirittura a scovare perché è ancora vivo a 80 passanti il numero di telefono volevo chiamarlo perché poi è stato un rubicone anche per lui nel senso che ha smesso totalmente di coltivare quelle belleità si è dato al cinema ha trovato i frame del fatto che lui ha fatto il tassista in un film con Susan Sarandon tratto da Neil Simon subito dopo la moce ha smesso totalmente quello poi ha fatto oppure che so la donna di servizio di Borges Fanny io ci ho parlato a tele una volta che perché lui lo vedevo quando veniva in Italia ma ci veniva ogni 4-6 mesi a ricevere un premio una laurea non riscausa fare una conferenza e insomma dopo un po' mi mancava una volta e allora quando ero giovane si doveva prenotare si telefonava alla SIP si chi ti diceva il numero eccetera e i disgraziati non me l'hanno fatto subito era pomeriggio ero da solo in casa dopo 4-5 ore quando pensavo che se ne fossero dimenticati all'ora di cena con mio padre che ha risposto a telefono come a Buenos Aires allora stava tutto il tempo di taglia e io ho parlato con questa qui che si chiamava Epifania e di recente ho letto una sua intervista lei è morta pochi anni fa e ha avuto anche lei una vita e racconta delle cose bellissime per esempio sulla fama lei orgogliosamente gli ha detto ma lei leggeva e non ho mai detto niente e dormiva anche lì era fissa e gli hanno chiesto ha detto ma una volta l'ho visto in televisione allora gli ho detto ma il signor lo chiamava il signor ma perché lei è così famoso e lui ha detto perché la gente non sape Fanny non sape cioè la gente non sa niente non capisce è un equivoco è eccezionale forse sono dirungato ci sono ben due Fanny abbiamo scoperto si stanno moltiplicando le ombre è arrivato il momento infatti di andare ai limiti della notte quindi di nuovo di richiamare Luca Signorini per un intervento musicale i limiti della notte di Salvatore Sciarrino ora ci racconterà Sì allora Salvatore Sciarrino un compositore importantissimo conosciutissimo vivente è nato a Palermo nel 47 o 49 non ricordo bene e alla notte dedica diversi titoli di sue composizioni per violino in orchestra dove vai viandante nella notte e questo ai limiti della notte è un brano per viola in realtà che poi fu trascritto per violoncello solo dedicato a Luigi Lanzillotta che era un violoncellista molto attivo a Roma negli anni 70 nel promuovere la musica contemporanea a Roma in quegli anni c'era una grande una grande attività che ruotava intorno alla musica contemporanea e anche io entrai in conservatorio nel 70 e non c'era ancora una classe era un bambino non c'era ancora una classe di musica elettronica però in quegli anni qualche anno dopo nel 74 75 cominciò ad arrivare Boris Porena e invece degli strumenti sul palco cominciò a mettere dei metronomi il pianoforte preparato c'erano attività che ruotavano intorno a nuova consonanza si eseguivano i brani di John Cage eccetera insomma Salvatore Scerrino è uno dei grandi compositori del novecento e mi sembra anche che le tinte di questo brano siano abbastanza in linea con gli autori di cui hanno parlato applausi del novecento dell' bucksordino di questo brano è uno dei tipici di questo brano attaccom dire ko delnis Grazie. 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 L'inquietante atmosfere ci portano alla seconda e conclusiva lettura di Stevenson. Di nuovo Andrea Renzi, ultimo giro dei nostri relatori prima della sezione cinematografica. Quell'individuo che fin dal momento del suo ingresso mi aveva riempito di una curiosità disgustata, se così posso chiamarla, era vestito in una maniera che avrebbe reso ridicola la persona più insignificante. I suoi abiti, per quanto di taglio sobrio, di ottimo tessuto, erano smisuratamente larghi per lui. I pantaloni che gli pendevano sulle gambe erano arrotolati in fondo perché non strusciassero per terra. La vita della giacca gli scendeva sotto i fianchi e il bavero gli si slargava sulle spalle. Eppure è strano a dirsi questo travestimento grottesco non mi fece affatto ridere. Piuttosto quella di armonia esterna sembrava adattarsi perfettamente all'essenza della creatura che mi stava di fronte, sembrava anzi rafforzarne la sconcertante anormalità che al tempo stesso mi catturava, mi stupiva e ripugnava. E così al mio interesse per il carattere e la natura dell'uomo si aggiunse la curiosità di conoscere le sue origini, la sua vita, le sue fortune e la sua condizione sociale. Per queste riflessioni che hanno occupato qui così tanto spazio mi ci vollero in realtà solo pochi secondi. Il mio visitatore sembrava sui carboni ardenti, in predo ad un'ansia oscura. «L'avete qui? L'avete qui?» gridò. E fremeva di una tale impazienza che mi afferrò il braccio e addirittura provò a scuotermi. Al contatto di quella mano mi sentì come trafiggere da una lama ghiacciata. Lo respinsi e gli dissi «Andiamo, signore. Dimenticate che non ho avuto ancora il piacere di fare la vostra conoscenza. Accomodatevi, prego». Gli diedi l'esempio, mettendomi a sedere nella mia solita poltrona e assumendo con lui l'atteggiamento che normalmente riservo ai miei pazienti, o almeno tentando di assumerlo. Per quanto me lo consentiva l'ora tarda, la natura delle mie preoccupazioni e il terrore che il visitatore mi incuteva. «Vogliate perdonarmi, dottor Lenion?» riprese lui abbastanza cortesemente. «Ciò che dite è più che giusto, ma l'impazienza ha voltato le spalle alla buona educazione. Sono venuto su incarico del vostro collega, il dottor Henry Jekyll, per un affare di una certa importanza. Mi risultava che...» Si interrompe. «Di colpo». Si portò una mano alla gola e, nonostante gli sforzi per mantenere il controllo, mi accorsi che lottava ferocemente contro le avvisaglie di una crisi isterica. Mi risultava che un certo cassetto a quel punto ebbi pietà dell'ansia del mio visitatore e un po' forse anche della mia crescente curiosità. «Ecco lui, signore», gli dissi, indicando il cassetto posato sul pavimento dietro un tavolo ancora avvolto nella carta. Si precipitò con un salto, ma di nuovo si fermò, premendosi una mano sul cuore. Sentivo stridere i suoi denti, serrati nella morsa, convulsa delle mascelle, e il volto era così spettrale da farmi seriamente temere per la sua vita o per la sua ragione. «Calmatevi, vi prego», dissi. Mi rivolse un riso agghiacciante e poi, se a guidare fosse la forza della disperazione, lacerò l'involucro. Alla vista del contenuto e mise un gemito di immenso sollievo, ma talmente acuto da lasciarmi impietrito. Un attimo dopo, con una voce più misurata, domandò «Avete un bicchiere graduato?». No, insomma, forse la cosa migliore era leggere, lasciare ad Andrea la lettura di tutto Gekyll. Questo è Gekyll, che dice a una persona che non sa nulla di tutto, un punto di vista esterno, questo è completamente Stevenson, ma anche modesto, dice che ha mandato Gekyll in realtà stesso e ha bisogno, detto brutalmente, della sua dose, perché ormai diventa sempre più breve l'effetto che la pozione droga ha su di lui e quindi ha questo bisogno. Solo una notazione sul freddo, vedete, subito uno, se anche è distratto, ritorna il gelo, il freddo, la ghiacciare che c'è all'inizio, quando compare questo strano essere che calpessa la bambina. Ma insomma sarebbe lungo dire altre cose su stile. Io vorrei invece leggervi due favole, due piccolissime favolette, non sono Andrea, ma non oso chiederlo adesso exabrutto. Una è brevissima, l'altra è un po' più lunga, hanno proprio dei titoli da favola, vorrei che racchiudano in un certo senso due aspetti un po' sottovalutati di Stevenson, uno quasi kafkiano, l'altro invece molto da uomo concreto, nonostante fosse un fantasticante per eccellenza. Questo si chiama l'infermo e il pompiere. C'era una volta un uomo malato in una casa in fiamme nella quale penetrò un pompiere. Non salvate me, disse l'infermo, salvate i sani. Volete avere la cortesia di dirmi perché, si informò il pompiere, che era persona a modo. Nulla di più giusto, disse l'infermo, quelli che sono sani e robusti dovrebbero avere la precedenza in tutti i casi, perché sono più utili al mondo. Il pompiere, che era persona alquanto filosofica, stette un po' a ponderare. Concesso, disse egli infine, mentre veniva giù parte del tetto, perché intanto ce l'è in cielo. Ma tanto per parlare, quale dovrebbe essere, secondo voi, la principale utilità della gente sana e robusta. Nulla di più facile, rispose l'infermo, la principale utilità dei sani e robusti è di aiutare i deboli. Di nuovo il pompiere stette a riflette, perché in quell'eccellente creatura non vi era mai traccia di precipitazione. Intanto la cosa in fiamme. Riuscirei a scusarvi di essere malato, disse infine, mentre crollava una porzione del muro, ma non riesco a sopportare che siate un tale imbecille. E conciò il pompiere, che era eminentemente equanime, alzò la sua ascia e inchiodò a letto l'infermo. Un applauso a Steve. Questa è brevissima, è davvero sinistra, comica, è quell'umorismo nero di cui abbiamo perso veramente la... Il penitente, questo sono due, uno scambio di battute. Un uomo si imbatte in un giovane che piangeva. Per quale motivo piangete? Si informò. Piango sui miei peccati, disse il giovane. Si vede che non hai di meglio da fare, disse l'uomo. L'indomani si incontrarono nuovamente e ancora il giovane piangeva. E adesso perché piangi? Chiese l'uomo. Piango perché non ho nulla da mangiare, disse il giovane. Eh, sapevo che ci saremmo arrivati, disse l'uomo. Diciamo era per mostrarvi un lato di Stevenson che veramente è un poliedro, cioè quello che noi conosciamo sono sempre pezzetti, dall'angoscioso Haid al bambino rapito, all'isola del tesoro, e i due fratelli in lotta tra di loro. C'è un racconto straordinario, se riuscite a trovarlo. È una delle poche cose che si trova in libreria, parentesi aperta e chiusa. Per curiosità cercavo l'opera Omnia in inglese di Steven, non c'è. Quindi quello che ho detto sui libri di scuola, di letteratura, eccetera, è vero. Non c'è. C'è soltanto in edizione elettronica. Non c'è cartaceo, ma è inquietante anche il cartaceo o l'elettronico che c'è. C'è pochissimo. C'è veramente nemmeno un decimo di quello che è scritto. L'isola del Treasure Island e qualche altro libro, la friccianiera. Cioè per ragazzi lo scrittura è stato veramente completamente cancellato nell'ambito proprio. Se andate è divertente. Su Amazon.com si trova questa stranezza di non trovare un'edizione completa. Esistono le edizioni completa di tutti i classici inglesi. Tutti. Anche in cartaceo. Non c'è. Ma non ci sono nemmeno proprio i libri. Comunque in italiano c'è un libro che si intitola Olalla, che è veramente un nome stravagante. Sono credo 70 pagine. È una lettura magnifica, meravigliosa e che vi consiglio una specie di sogno che avviene come in una fumeria doppio in un film a me molto caro che c'era una volta in America. Va bene, io ho finito con la situazione di un film che non c'entra niente e sto prendendo la deriva di Garufi. Per cui, passo la parola. Concludiamo ora su Borges, come dire, cercando di ricongiungere con l'ultima lettura da FUNES, con Andrea Renzi, il ragionamento. Nel rancio decoroso la madre di FUNES mi ricevette. Mi disse che Ireneo si trovava nella stanza in fondo e che non mi stupissi di trovarla buia, perché a Ireneo piaceva passare le ore morte senza accendere la candela. Attraversai il cortile di Mattonelle, il piccolo corridoio. Arrivai nel secondo cortile. C'era un pergolato. L'oscurità poteva sembrarmi totale. Udì all'improvviso la voce alta e beffarda di Ireneo. Quella voce parlava in latino. Quella voce che veniva dalle tenebre articolava con un piacere prolungato un discorso o una preghiera o un incantamento. Risuonarono le sillabe romane nel cortile sterrato. Il mio timore le credeva indecifrabili, interminabili. Poi, nell'enorme dialogo di quella notte, seppi che costituivano il primo paragrafo del capitolo 24 del libro VII della Naturalis Historia. Il tema di quel capitolo è la memoria. Le ultime parole furono Ut nil non isdem verbis redderetur auditum. Nulla di ciò che è stato ascoltato può essere raccontato con le stesse parole. Senza l'ultimo cambiamento di voce, Ireneo mi disse di entrare. Stava sulla branda e fumava. Mi sembra di non avergli visto la faccia fino all'alba. Credo di ricordare la brace momentanea della sigaretta. La stanza odorava vagamente di umidità. Mi sei detto, ripetei la storia del telegramma e della malattia di mio padre. Arrivo adesso al punto più difficile del mio racconto. Esso, ebbene il lettore ormai lo sappia, non ha altro argomento che quel dialogo di ormai mezzo secolo fa. Non cercherò di riprodurre le sue parole, ora irrecuperabili. Preferisco riassumere in maniera fedele le molte cose che mi disse Ireneo. Lo stile indiretto è distante, è debole. So di sacrificare l'efficacia del mio racconto. Bene, che i miei lettori immaginino i periodi spezzati che mi scosciarono quella notte. Ireneo iniziò con l'enumerare in latino e in spagnolo i casi di memoria prodigiosa registrati dalla naturale Sistoria. Ciro, re dei persiani, che sapeva chiamare per nome tutti i soldati dei suoi eserciti. Mitridate e upatore, che amministrava la giustizia nelle ventidue lingue del suo impero. Simonide, inventore delle mnemoteche. Metrodoro, che professava l'arte di ripetere fedelmente ciò che aveva ascoltato una sola volta. Con evidente buona fede, si meravigliò che casi del genere suscitassero meraviglia. Mi disse che prima di quella sera piovosa, in cui venne travolto dal cavallo pezzato, era stato come tutti gli altri cristiani, un cieco, un solo, uno stordito, uno smemorato. Cercai di ricordarmi la sua percezione esatta del tempo, la sua memoria per i nomi propri. Non mi diede retta. Per 19 anni era vissuto come in un sogno. Guardava senza vedere. Udiva senza udire. Si dimenticava di tutto. Di quasi tutto. Quando capì, perse conoscenza. Quando la riprese, il presente era quasi intollerabile per la sua ricchezza e nitidezza, così come i ricordi più antichi e più banali, poco dopo si rese conto di essere paralizzato. Il fatto lo interessò appena. Pensò, sentì, che l'immobilità era un prezzo minimo. Adesso la sua percezione e la sua memoria erano infallibili. Sembra impossibile che la letteratura certe volte possa diventare cinema, perché è davvero, come dire, un linguaggio talmente più ampio, più ricco, più potente. Tra un po' entreremo nella sezione cinematografica, eppure anche da Borges parecchi sono i film tratti. Lui ha un'autentica passione per il cinema. Persino quando diventa ormai cieco, continua ad andare al cinema, lo accompagnano, si fa raccontare i film che vengono proiettati. Sì, sì, lui c'è un libro anche che ha scritto addirittura una sceneggiatura, che credo si chiama Les autres, gli altri con... Ah, sapete tutto, va bene. Su questo racconto volevo dire una cosa, vabbè, il racconto si chiama Funes e il memorioso, Funes, quello che ricorda. E parla di questo ragazzo di campagna, Irineo Funes, figlio di una stiratrice, che ha questa memoria prodigiosa, credo che si dica ipermnesia o qualcosa del genere. E che fa capire come è estremamente debilitante, perché è incapace di astrazione. Questa continua... Questo continua a immagazzinare ogni singola cosa. Lì non trovava ingiusto dare il nome di... Che so, di un albero, un pero, allo stesso albero di cinque minuti fa, che era diverso perché... Aveva la posizione delle foglie, il vento lo aveva spostato, eccetera. E uno degli insegnamenti di cui proprio parlammo in uno dei nostri incontri a Roma, nell'ottobre 1984, lui era qui perché era a Roma, perché gli doveva andare alla laurea e non riscausa la sapienza, poi aveva un sacco di impegni, di cose. E in albergo mi ricordo che a un certo punto io gli chiesi, fece una domanda stupidissima, e gli chiesi, ma con quale opera, per quale libro vorrebbe essere ricordato? E lui mi disse, io non voglio essere ricordato, io spero di... Io sono stanco, sono... Harto, che è più di cansato, sono stanco di me stesso e scrivo per dimenticarmi. Mi disse questa cosa che mi colpì molto. Mi fece anche l'esempio del fatto che sua madre, c'è un'espressione spagnola, sua madre diceva proprio alla Colf, Fanny, mi diceva ricordami alla socio, cioè ricordami, ridestami a me stessa le otto di mattina per svegliare, cioè tornare alla coscienza. E lui diceva che avrebbe voluto addormentarsi e non svegliarsi più, era stanco di... forse anche di recitare questa continua parte, perché poi c'è a proposito del doppio di cui parlavamo prima, c'è un suo racconto molto bello, Borges e Dio, in cui lui spiega come qualsiasi passione, hobby, quando la dichiara il giornale e la televisione diventa istantaneamente l'attributo di un attore vanitoso, diventa qualcosa di falso e allora lui cerca di scappare, di non avere più l'oppressione per l'eclissidre, per gli orologi a cucù, ma il personaggio pubblico si appropria di tutto, non gli lascia spazio. E secondo me uno degli insegnamenti che c'è anche in questo racconto sulla memoria è che l'oblio non è solo quel mostro vorace, terribile, che annichilisce qualsiasi cosa, che deve essere combattuto con ogni mezzo, le giornate della memoria di queste cose. L'oblio può essere anche un prete pietoso che dà la soluzione a chiunque. Io ho un file, tutti i miei appunti, sulle cose che mi interessano, minime, si chiama oblioteca, perché è una raccolta di cose, persone dimenticate. E poi un'altra cosa che, secondo me, quando parlavamo prima del fatto che lui era molto fiero di essere un lettore, che lui è un lettore che scrive, è che lui è stato uno dei grandi fondatori dell'estetica della ricezione, cioè che dice sostanzialmente che un libro in sé per sé è un volume che occupa dello spazio, è carta, è inchiostro, vive quando viene aperto, quando nel commercio con il suo lettore, per cui la lettura crea l'opera. Questo è poi il senso anche di Pierre Menard d'Auto del T-Shot, non è solo sulla riscrittura, proprio. Sull'oblio direi che, sull'oblio ci ha raccolto, chiediamo l'ultimo intervento musicale a Luca Signorini, forse Dante Gabrielli, più rapido, e poi ci appunto, mentre Luca si sistema, ci prepariamo a una sezione cinematografica che è piuttosto ricca, ricca perché ci sarà Invasion di Ugo Santiago, che lui scrive con Adolfo Bioi Casares, ci sarà dal tema del traditore dell'eroe, il film di Bertolucci, La strategia del ragno, sia pur riadattato ad altri luoghi e ad altri ambienti, c'è un'opera recente, The Secret Miracle del 2017, in animazione, in acrilico, di un artista danese, Tore Banson, che è ispirato proprio alla vita di Borges, e poi naturalmente da Stevenson una quantità di adattamenti, se ne cade il cinema, la Iena di Robert Wise, dal Trafugatore di Salme, un capolavoro straordinario, e le varie versioni della trasformazione di Jekyll in Hyde e anche il quartetto Cetra alla fine per non farci mancare niente, ma avremmo potute metterne molte di più. Appena Luca è pronto questi ultimi minuti di musica, la sezione cinematografica prima di salutarci. che il ricercare di Gabrielli sta alle suite di Bach, perché non c'erlo solo come il dottor Jekyll sta al mister Hyde, tanto il dottor Jekyll e Bach nella posatezza, nella costruzione, nella meditazione, quanto qui è tutto istinto. Siamo sempre all'inizio della letteratura per violoncello, sono di due decenni prima ed è un linguaggio completamente diverso. Applausi Grazie a tutti. 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 No. Gilda! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché si è fatto uccidere così? Sembra tutto finto. Lui era d'accordo con voi? Sì? No. 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 No, non è un po' di più, non è un po' di più, non è un po' di più. Drink up, man. Drink up. I have an idea. A splendid idea. So excellent an idea that we must drink on it. You see, I admire you, Joseph. It took courage to come here, and I'm looking for such a man. But drink, Joseph. Drink. You and I should work together. You mean we would sell the bodies to the doctors together? To dig them up? There'll be no digging. The kirkyards are too well guarded. We will, so to speak, burk them. Burk them? You've lately come to Scotland, Joseph. I come from Lisbon. But you may have heard the chapbook singers and peddlers of verse cry their names down the street. You know, the ruffian dogs, the hellish pair, the villain burk, the meager hare. Never heard the song. What did they do? Eighteen people they killed and sold the bodies to Dr. Knox. Ten pounds for a large, eight for a small. That's good business, Joseph. Where did they get the people? That was hare's end. Oh, you should have seen him on the streets when he saw some old Beldame deep in drink, how he cousin'd her. Good day to you, Madame Tospot. And would you like a little glass of something before you take your rest? Come with me to my house and you shall be my guest. You shall have quarts to drink if you like. How he cousin'd them. They can do that? But when he get them there, then what? Nor did they handle axe or knife to take away their victim's life. No sooner done than in the chest they crammed their lately welcomed guests. I don't understand the song. Tell me plain how they did it. I'll show you how they did it, Joseph. I'll show you how they burnt them. No! Put your hand down. How can I show your man? This is how they did it, Joseph. and see if you go close. I'll show you how they do it. I love you. Yeah, keep going, Mr. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.